Eeeeeeeeeee Se avete un amico come lui Quanto meno dovremo accasare due risate No quello se non c'è dubbio Ma perché fai il casino Giuseppe? Perché fai il casino? Eh, dobbiamo per questo Perché tu sei un allegrone Tu porti il divertimento nello sport E questa è la meraviglia Oh! Allora intanto Se Giuseppe dica quindi io ho questo tipo e non lo voglio far salire ma Giuseppe come stai? ci siamo sì dai beh dai sei tirato mi servirebbe un po' di San Gabriel e dopo all'arrivo dai ti aspetto all'arrivo dai allora oh insomma è carica no facciamo le battute volgari facciamo? sì tipo americano sì anche il tuo canale posso parlare siciliano? put it in allora noi dobbiamo essere più ruolosi di tutti chiudi sei informissima sei informissima di Mario CS Sport che presenta il suo capitano Bambè da ambassador di embargo bikes influencer atteta all'opera della sport e della fatica Fado da bici ha pedalato assistita la sua mission Giuseppe Bica ciao piacere Giuseppe ciao una scheggia è una potenza una scheggia impazzita impazzita mangiamo insieme camminiamo insieme ci dividiamo i pranzi insieme ci battiamo insieme e sono una macchina diversa pronti pronti tanto oggi è corta domani è lunga oggi è corta domani è lunga non ci annoiamo mai eccola qui la partenza del giro è 2023 ci sta gente dal Canada ci sta gente dalla Ruanda Nicola ci sei? Marco Roberto ci siamo? ci siamo RCS? qua c'è qualche campione del mondo qualche Parigi in Roubaix qualche Giro d'Italia ci stanno tutti i colori e poi c'è questo 3 2 1 è partito il giro è 2023 nuova avventura nuovi amici nuove bici nuovi colori nuovi paesi nuove montagne nuove pianure nuove cose da mangiare nuove sfide viaggiare è questo viaggiare è questo conoscere conoscere i posti gustare i posti e poi ritornare con tante foto ho tanti video e con tanti ricordi tanti segni che rimangono indelebili ciao Fossa Cesia mi stava dicendo che questa era una vecchia ferrovia in disuso esatto ed è stata rivalutata dove veniva non si poteva ciclismo bellezza era una citabile bellissima peraltro era una vecchia ferrovia quindi hanno detto proprio ma quindi sei passato dentro anche le gallerie siamo passati anche le gallerie bello era scorrevolissima il mare lì a due passi a due metri a metro zero il mare natura relax viva l'Italia benessere viva l'Italia sintetizziamolo così viva l'Italia viva il Ciro d'Italia viva il Ciro che ci porta qui dici che vado di qua va bene vado di qua vado di qua su 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 andiamo alziamo il ritmo andiamo RCS andiamo RCS ci siamo divertiti grazie al meccanico che ha avuto la pazienza tutto grazie meccanici abbiamo vinto di nuovo e boss sono io chiaramente falso dietro le quinte lo staff creativo multimediale tecnico ci abbiamo le granite al limone abbiamo del più bello del giro è sempre lui il direttore sul trono capire qui ci guardiamo l'arrivo le cose devono essere semplici per essere per essere divertenti e per essere usate da tutti e questo è un po il compito diciamo di chi come te rende semplice fare andare in bicicletta le persone sia col lavoro delle biciclette ma anche con lo stare poi insieme perché poi non c'è solo la tecnica c'è anche la presenza umana la guida l'aiuto il consiglio anche dare una spinta la mano quando c'è un bisogno ed è quello in qualche maniera che la nostra missione che cerchiamo di fare noi cioè le persone che giustamente da un altro normale usare un'altra elettrica non è tutto facile è chiaro c'è bisogno di qualche aiuto noi vogliamo dare questo aiuto perché sia semplice altrimenti ci sono le persone rimangono a fare quello che fanno la fossa cesia portona grossomoto grossomoto quanti chilometri 28,3 chilometri sulla costa dei trabossi è una cronometro bellissimo dove siamo che regione avruzzo preparatissimo adesso prendo un caffè ma lungo ma così lungo che cominci ora e finisco domani capitano allora lo porti anche a me certo che te lo porto mica te lo vuoi tanto mica sto mica lo pago io mi chiede dove vuoi no come no a poi me lo mettono in camera minchia ragazze molto carino e quindi quella con gli occhiali ma quale dove è quella del giro di quindi venite al giro perché ci sono belle ragazze questo è sicuro champagne ci vediamo domani ciao